Il primo atto del secondo mandato, la nuova aggiunta, quanti assessori e chi saranno? Intanto sono cinque gli assessori, adeguandoci alla normativa. Per vero, il Comune di Giulianova, io avevo già anticipato la riforma legislativa perché già due anni fa avevo ridotto da 7 a 5 il numero degli assessori, proseguendo in quell'opera di ottimizzazione della spesa iniziata cinque anni fa, perché a Giulianova non esistono più da cinque anni le auto blu, non c'è neppure un euro di spesa per le spese istituzionali, avevo ridotto da due anni il numero degli assessori risparmiando oltre 70 mila euro annui. Il vice sindaco sarà Nausica Cameli, che avrà le deleghe al benessere sociale, quindi alle politiche sociali, alla pubblica istruzione, all'attuazione alle pari opportunità e agli alloggi popolari. Poi c'è l'assessore Fabio Ruffini, che avrà le deleghe al demanio marittimo, al ciclo delle acque, al ciclo dei rifiuti e all'edilizia pubblica. Poi Katia Verdecchia, che avrà quella al bilancio, alla programmazione, al personale. Pierangelo Guido Baldi, che avrà le deleghe alla cultura, alle manifestazioni, al turismo, allo sport, alle risorse extra comunali e al commercio e alle attività produttive. Nello di Giacinto, che avrà le deleghe alle manutenzioni, alle aree verdi, alle lavori pubblici, alla mobilità e al trasporto. Il primo atto di giunta sarà quello del dimezzamento delle scarnissime indennità di sindaco e assessori che andranno a costituire il fondo di solidarietà nel sociale. Io spero che anche altri comuni nella regione Abruzzo e in Italia facciano la stessa cosa, soprattutto che la regione lo faccia.